Un libro che racconta la storica giornata che il Molise ha vissuto in occasione della visita di Papa Francesco si chiama Grazie Tante ed è stato scritto dai due giornalisti Giovanni Di Tote e Enzo Luongo. Il volume, edito dalla Palladino Editore, è stato presentato a Campobasso a fare gli onori di casa. La giornalista Pina Petta è stata l'occasione per ricordare quel bellissimo 5 luglio, ma anche per confrontarsi sui temi che il Pontefice ha affrontato nei suoi interventi a Campobasso e di Serni a primo fra tutti quello del lavoro. Emozionati e molto soddisfatti i due autori. Cosa ti è rimasto di più di quella giornata? Quella di vedere l'arrivo di Francesco all'interno del Romagnoli, dove io ragazzo di 14, 13, fino a 20, 22 anni ho vissuto forse i periodi più belli della mia vita, grazie al Campobasso Calcio. Però al di là dell'aspetto sportivo e dell'immagine di tifoso, di cui tra l'altro raccontiamo nel libro, perché Papa Francesco è il primo tifoso del San Lorenzo, la squadra di Buenos Aires, che ha gli stessi colori del Campobasso, al di là della tifoseria, del calcio, della speranza che un po' rappresenta quell'immagine. Noi abbiamo colto un significato secondo rispetto a quella fotografia, che è un senso di gratitudine che noi dobbiamo a Papa Francesco, che quel giorno si è concesso a tutto e a tutti. Il giorno dopo, che dalla finestra del Palazzo Apostolico all'Angelus, lui ha pronunciato quella frase bellissima ringraziando noi molisani per l'accoglienza che aveva avuto. Da lì nasce il titolo Grazie Tante, ma è un titolo di rimbalzo. Siamo noi che vogliamo ringraziare per la seconda volta Papa Francesco per quello che è stato il 5 luglio a Campobasso, a Castelpetroso e a Isernia. L'idea di questo libro nasce mentre c'era ancora il Papa qui, perché io e Giovanni eravamo impegnati nella famosa diretta televisiva che ha coperto tutta la giornata della visita del Papa in Molise e abbiamo avuto l'impressione che ci stesse scorrendo davvero la storia di questa regione davanti agli occhi all'ex Romagnoli. Nei giorni successivi poi mi è rimasta in testa questa idea, forse si può fare qualcosa, si può fare un libro, al di là delle tante iniziative che sicuramente pensavo all'epoca sarebbero state messe in campo, si potrebbe fare una cosa legata proprio ai giornalisti, cioè la cronaca di quella giornata, lasciare una testimonianza diretta, senza filtri, cioè la cronaca di quello che era successo con tutti gli interventi minuto per minuto, le curiosità e anche degli approfondimenti sui personaggi che in qualche modo avevano a che fare con Papa Francesco, con il suo paese d'origine, l'Argentina e con il Molise. Così è nato il libro che si chiama Grazie Tante.